wow long panico per tutti ragazzi eccoci qua nella sesta settima puntata non mi ricordo esattamente nella scorsa puntata però se non sbaglio avevamo sconfitto quella specie di mucca pazza adesso poi ci siamo fatti ovviamente la tipa come sempre ogni nostra solita puntata noi facciamo e poi cos'altro che abbiamo fatto qua c'è un lago che adesso scriverò eccoci vediamo dove siamo il suo mezzo sorriso oddio mi fate incazzare io ve spacco tutte e due oddio incattatissimo era cambio di scena attenzione ah perfetto dentro un buco ci dobbiamo buttare ovviamente eccolo via via ti ammazziamo subito che adesso mo che c'ho la lancia posso colpirti anche oddio ma che cazzo è il ragno di merda oh vieni qua ti faccio esplodere il tuo culone va là che cos'è sto rumore oddio maledizione smettila guarda lì che ho fatto una cappiola mamma mia t'ho sfondato però niente ragazzi mi piace molto di più niente le doppie spade io sono per la velocità l'adrenalinica oddio mi sta seccando no no aspetta oddio no oh meno male meno male vai 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 ok meno male oddio ancora vivo maledizione devo scappare perché adesso però scappa scappa bravissimo ok seccato mamma mia oddio quello è fortissimo maledizione ho scazzato 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 aspetta devo curarmi subito perché qua io ho già scazzato no lo sapevo che cazzo è cos'è che mi ha lanciato chi è stato maledizione aspetta devo ammazzare questo che è fastidioso ok come va o no oh oh scappa 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 ok buono è buono buono attacca lui bravissimo buono aia è finita no 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 oh sono vivo sono vivo no cacao 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 non morire no no è finita no sono morto così no non ci credo porca io puttana niente vabbè orca troia cos'è sta cafonata e vabbè e vabbè e niente dov'è cacao dov'è cacao oh meno male meno male no è rifatto vabbè e vabbè dov'è cacao subito porca di quella puttana maledetto e vabbè buono buono ok dov'è uuuh vai a fare non è ancora morto maledizione niente non ci credo per sbaglio ho lanciato con la palla di ghiaccio maledizione oddio sai che ti dico io ti mando il cavallo va là che te la vedi con lui uh vieni qua vieni vieni qua vieni vieni pure qua no me l'ha spaccata porca di quella puttana l'ha spaccato vai 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 pure attaccolo maledizione mi ha preso anche a me ho visto qualcosa arrivare da dietro ho visto qualcosa arrivare da dietro cos'era oddio porco spino che si fa esplodere via via scappa cacao io scapperei se fossi in te ok no infatti cacao è morto subito aspetta che ti salvo oddio mi sono cagato addosso via via scappa uh ma io lo sapevo che c'era il coso dietro lo sapevo me lo sentivo da seriamente perfetto sono morto praticamente sono morto perché sono caduto io maledizione e non ho più vita non ho no 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 niente sono caduto di nuovo porca di quella puttana porca niente niente se ne accorto è finita fammi salire fammi salire dio cristo fammi salire e niente mi ha buttato di sotto porca di quella puttana non mi dire che scende ah devo scappare c'è cao cao che sta guarda io per il tuo bene ti incito ma infatti è morto vabbè no no te lo sei portato dietro se l'hai portato dietro cao cao maledizione è come suon gindolo ammazzo io se l'hai portato dietro sto coglione guarda dovevi combatterlo sopra te vai ti prego ammazzo lo che dai un colpo un colpo bravo maledizione ha fatto una follia cao cao che cavolo è cosa ha lanciato l'incantesimo ha lanciato porca troia porca troia ha lanciato un incantesimo no io sicuramente userò il potere della bestia per cercare di seccarlo perché questo qua è veramente troppo forte prima io voglio fare un attacco sorpre- perfetto e adesso ti becchi anche il cavallo ti becchi niente questo sono scommetto che ci fa il culo comunque questo no no di nuovo non di nuovo aspetta ma ti ammazzo così ti prego dimmi che ti posso non lo posso seccare aspetta dai niente devo andare a rianimare il cacao che è morto niente è finita niente niente cacao è morto e io sono nella cacca perché ah io se faccio l'incantesimo guarda qua niente non fa niente devo attaccarlo subito ce l'ho fatta ce l'ho fatta è il momento di andare di doppia la barra del gallo questa qui mi farà vincere sono abbastanza sicuro questo qua è una bestia questo niente chi può battere meno male fammelo ammazzare ma è zione che c'è quello lì in mezzo no dove sei oddio stava avendo le convulsioni l'ho visto eh niente niente sto pezzo non ce la faccio più non so come fare non so come vincere guarda parto sempre da capo niente niente porca di quella puttana niente 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 è impossibile ragazzi lui non lo puoi prendere di soppiatto è incredibile questa cosa è assurda veramente io sto impazzendo il problema è che non si prendono eh niente ovviamente lui te la rifà ovviamente ovviamente che non prendi un cazzo di punti perché prendessi qualcosa niente non non ci sali di livello niente ma vai a fare in culo vai piaciuto non te l'aspetto niente sei buggato tipo c'è la vetta che si incazza io best mamma mia che ho fatto delle giocate che sono troppo forte veramente vai vai te bro mi tocca usare questo mi tocca usare contro col tizio lì avrei mai detto veramente guarda è veramente forte veramente ok ce l'abbiamo fatto ah ok qua c'è un orge a quanto pare è questo l'unico modo che abbiamo adesso gli lancio tutti i coltelli che io li lancio porca di qua vieni qua vieni 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 se cauca voi ok vai 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 adesso sono io contro di lei e basta niente niente non si riesce a capire un cazzo non si riesce a capire porca trovi vieni vieni qua vieni vieni dai dai che ce la facciamo dai dai no quanto cazzo fa male niente non si può capire niente o è troppo forte o è troppo forte e ovviamente niente troppo forte troppo male fa ce l'abbiamo fatto finalmente fammi salvare ti prego non ce la facciamo più si ce l'ho fatto ragazzi sono qui da porca puttana due ore per battere quella merda di polivor difficilissimo impossibile sono esausto veramente niente era tutta qua la zona niente un buco di merda con nemici troppo forti e via adesso sto boss di merda ti prego lo voglio battere il prima possibile non ce la faccio più veramente e via subito non neanche le pozioni le ho finite fatti guarda sta merda è solo a livello 8 è solo a livello 8 è un po più un po più alto il range d'azione e via e stai ferma no l'ho schivato no mi sa di no mi sa che non l'ho schivato visto che mi ha dato un morso che diventa un vampiro tra un po tocca curarmi due volte addirittura vai vai attaccalo bravissimo quindi niente è possibile impossibile veramente mi viene da piangere mi viene e via e rieccoci e vabbè subito buono gli ho bloccato anche la mossa vieni qua vieni qua vieni qua vieni cosa cavolo ha fatto no guardati madonna t'ammazzo dai 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 ti distruggo cosa fa cosa sta facendo e via un po più largo il range d'azione dove sei ma preso è finito sono morto non male non lo so se ce la faccio mo cacau è anche morto che cazzo di mossa che cazzo di mossa niente non avevo mai visto con la mossa non potevo prenderla lasciami stare niente mi ha preso possibile da parlare difficilissimo non si capisce niente non si capisce no com'è che sei già morto niente niente l'affronterò affronterò da solo ho capito dai tanto cacao e niente e niente dai ti ho anche rianimato ringrazia il cielo veramente che è via niente 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 fa schifo cacao fa schifo cacao fa schifo fa schifo il cacao non ce la faccio più mi prego basta non so ancora per quanto potrò continuare poi perché non mettono le bandiere vicine perché la metti qua guarda quanta strada mi devo fare guarda io da qui devo farmi questa strada fino a qui guardate adesso mi faccio vedere perché ecco 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 fino a qui ma se tu mi metti una minchia di bandiere qui a posto di questo coso di fuoco e mi fa entrare subito qui no devo farmi il giro tutte le volte tu la passeggialmi devo fare così cos'è cos'è con la mossa oddio cos'è niente è diventato un bel blade ha deciso di girare con una piruetta niente niente adesso lancia anche il veleno lo lancia lo lancia il veleno aia ok adesso fa la super no mi ha preso mi ha preso un'edizione mi togli un botto niente non si può ora non ti può battere ragazzi ti può battere ok devo parare uff vai 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 si 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 se l'ho fatta si grazie meno male è morto dove era lui perché prima non c'era mamma mia ragazzi che fatica vi giuro non ce la facevo più niente da piangere mi viene no cosa vuol dire no io devo salvare perché non si vede niente niente è incredibile che si veda sempre meno si veda alleluia no ragazzi io devo salvare fatemi salvare perché voglio voglio chiudere questo gioco e salvare per favore fatemi salvare via via oh sì alleluia ok ecco per questa puntata è tutto ragazzi noi come sempre ci vediamo la prossima puntata ciao